ben trovati a tutti voi amici di le fonti tv eccoci pronti per un appuntamento che voglio definire speciale di le fonti agorafiscale e leggete subito il titolo che vedete in sovrimpressione imprenditore tu sei un eroe allora noi di cosa parleremo in questa puntata parleremo proprio degli imprenditori di imprese soprattutto ovviamente relativamente al periodo che abbiamo vissuto che stiamo ancora vivendo un periodo molto complicato a causa della pandemia di covid che speriamo di lasciarci alle spalle prima possibile ma che ovviamente ha lasciato i suoi effetti parleremo di questo parleremo proprio dell'imprenditore che ha dovuto vestirsi da eroi da supereroi allora perché dico parleremo perché ovviamente non sarò sola ma sono intanto con Maria Bonsanto collega della redazione Maria è un piacere insomma condurre questo spazio insieme è un piacere per me ben trovati anche i nostri telespettatori naturalmente e ben trovato anche al nostro ospite Emanuela diceva che non sarà da sola non saremo da sole perché parleremo proprio di questa nuova veste che ha dovuto prendere che ha dovuto vestire l'imprenditore in qualità di eroi insieme all'autore del libro tu sei un eroe do il benvenuto a Francesco Cardone grazie 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 per l'invito e grazie a tutti i telespettatori di Emanuela Fiscale allora dottor Cardone innanzitutto lei è anche CEO di Prefocus e fondatore anche di Impresa Vincente quindi le chiedo proprio come esperto di impresa perché questo titolo perché l'imprenditore come eroe perché sono stati due anni difficili quindi della pandemia per l'economia italiana e oltre agli operatori sanitari medici infermieri che hanno fatto un grandissimo lavoro però io penso che ci siano ulteriori eroi questi eroi sono gli imprenditori che a volte sono troppo bistrattati quando guardiamo la tv di solito arriva il messaggio del farabutto del ladro dell'evasore dello sfruttatore dei suoi collaboratori io personalmente non la penso così penso che tutti gli imprenditori che hanno resistito in questi due anni della pandemia e quest'inizio 2022 sono eroi così come gli operatori sanitari perché hanno fatto in modo che l'azienda continuasse ad andare avanti quindi sono stati bravi a portare avanti le aziende e a cercare di dare serenità alle loro famiglie ma anche alle famiglie dei loro collaboratori peraltro quando parliamo ovviamente di piccole e medie imprese intanto parliamo di ossatura del nostro paese cioè è proprio la struttura anzi usiamo questa parola mi piace mi piace anche di più e quando parliamo anche di aziende sane italiane in questo caso parliamo di attrattività che poi l'italia come sistema paese ha verso l'estero e non possiamo prescindere da questo il fatto che si parli di eroicità è relativo anche al fatto che si mantiene alto il nome italiano all'estero e beh e questo non è un lavoro da poco giusto guardi il 97 per cento delle imprese italiane sono micro piccole e medie imprese con meno di 50 dipendenti su un panorama di circa 4 milioni e mezzo di imprese che abbiamo oggi in italia quindi il concetto qual è che è un concetto dove l'imprenditore deve essere un camaleonte secondo me deve essere flessibile questo mercato mutevole non è più il mercato dei nostri nonni o dei nostri genitori questo è un mercato che cambia in continua evoluzione manca finita la pandemia è iniziato qualcos'altro voglio dire quindi questo mercato dove bisogna essere attenti e quindi per rappresentare l'ossatura economica italiana dobbiamo dare quella giusta attenzione agli imprenditori ripeto troppe volte troppo bistrattati ma noi parliamo veramente di aziende piccole con fatturati piccoli ma sono quelle che sono veramente l'ossatura dell'economia italiana certo dottor cardone a telecamere spenta abbiamo avuto modo di confrontarci anche sulla solitudine dell'imprenditore lei ha parlato adesso di bistrattato ma in realtà abbiamo usato parole anche più forti abbandonato lasciato solo e abbiamo parlato dell'importanza anche di creare una rete una rete fatta di professionisti che devono essere camaleonti e cambiare esattamente al pari dell'imprenditore quindi qual è il nuovo ruolo del professionista guardi innanzitutto cioè un capitolo del libro dove parlo della solitudine dell'imprenditore di sotto l'imprenditore quando va in difficoltà smette di parlare smette di parlare con i collaboratori smette di parlare con la famiglia con gli amici e si chiude in una solitudine perché in italia io dico sempre che l'orgoglio non è una voce del bilancio invece tante volte l'imprenditore orgoglioso che la sua creatura azienda invece io penso che l'imprenditore deve capire una cosa sempre sempre di più che questa è la sua vita e questa è la sua azienda non è un tutt'uno la vita dell'imprenditore è diverso dalla vita aziendale è chiaro che in italia abbiamo anche un concetto del fallire un po diverso dalla dalla cultura anglosassone invece io penso che noi possiamo avere delle aziende ma bisogna avere anche il coraggio se queste aziende non vanno avere il coraggio di fermarsi di cambiare le strategie di modificarle non dobbiamo essere orgogliosi che il nostro prodotto e il servizio è il più bello in assoluto noi dobbiamo essere mutevoli a quelle che sono le esigenze del mercato quindi questo secondo me è di importanza rilevante perché vede io anche con il Politecnico di Milano dove sto lavorando su un osservatorio delle professioni dico il ruolo del commercialista degli avvocati e dei consulenti del lavoro deve essere diverso noi non dobbiamo essere più professionisti old style ma noi dobbiamo essere dei partner dell'imprenditore io qualche giorno fa con un cliente di Castelfranco Veneto abbiamo fatto un tavolo dove ho riunito tutti i professionisti i vendor di servizi e vendor di tecnologia perché poi tutti quanti abbiamo la mentalità parlo dei professionisti che ruotano intorno all'azienda io la chiamo la mentalità del piccolo orticello ognuno pensa al suo no dimenticando di mettere al centro l'azienda allora io martedì pomeriggio ho fatto questo incontro dove ho riunito tutti per parlare dell'azienda e delle strategie dell'azienda questo è quello che deve cambiare quindi anche un professionista che crei network con gli altri professionisti avendo al centro l'azienda sì no no perdona io Maria vai il famoso sistema impresa vincente di cui anche fondatore quindi chiaramente sì non dimentichiamoci di fare sistema cosa che a volte manca soprattutto quando c'è la crisi di mezzo però non a caso una delle parole più utilizzate speriamo anche che sia di ottimo insegnamento durante la pandemia è stato proprio rete sinergia perché perché per emergenza per necessità a distanza è stato questo che ha aiutato noi abbiamo dovuto collegarci un po tutti mentre invece paradossalmente anche se vogliamo quando si lavorava in ufficio in azienda si tendeva proprio a isolarsi come ha detto lei in un orticello poi tra poco cerchiamo anche di capire come è strutturato il libro ce l'ho anch'io perché anche Maria noi ce lo siamo ce lo siamo aggiudicato ovviamente per prima per prima anche perché poi spieghiamo e serve un po tutti però bisogna anche dire una cosa ma in prospettiva proprio anche positiva ci sono tante imprese piccole e medie imprese che hanno chiuso in questo in questo periodo perché ovviamente poi non tutte hanno la struttura no per poter resistere a situazioni come quelle che abbiamo vissuto cioè ci sono aziende dipende anche dal settore di riferimento che sono state chiuse per mesi addirittura attività quasi due anni quindi insomma questo è un allarme però che bisogna lanciare ripeto per poi guardare verso il futuro in chiave positiva e poi capiremo come insomma attraverso il suo libro cosa si sente di dire a proposito che l'argomento è importante che quello del network no quindi creare aggregazioni tra imprese tra professionisti mettendo al centro l'impresa noi ogni tre mesi premiamo con un contest che impresa vincente la le migliori aziende clienti del del pre focus che hanno avuto il maggior aumento di fatturato ma è quello che ci interessa e meno ma quello che andiamo a guardare sulle immagini di contribuzione e libidata dell'azienda vi posso dire che quegli imprenditori che hanno avuto quello switch come lo dico come chiamo io io ho imprenditori in azienda che hanno fatto 240 280 300 per cento di incremento rispetto all'anno scorso e la stessa in pre focus negli anni della pandemia abbiamo fatto più 54 e più 69 per cento di incremento di fatturato con un margine di contribuzione del 56 per cento quindi dipende da come mentalmente predisposto l'imprenditore ripeto io su questo ci tengo molto il libro è un consiglio agli imprenditori di cambiamento di mindset perché tutto ciò che è vero stamattina domani potrebbe non essere più vero questo mondo troppo mutevole quindi aggregazione e flessibilità quindi i pilastri di questo cambiamento proprio nel libro si parla di pilastri degli imprenditori euro e quali sono sinteticamente mindset leadership motivazione e gratitudine i fondamentali di un'impresa destinata a diventare leggenda questo è il volume 1 poi a settembre ci sarà il volume 2 perché si legge subito forse lo può far vedere anche la telecamera adesso per la nostra regia mostrerà tutto ecco qui volume 1 e allora già lascia intendere che non è finito qui e quindi dobbiamo leggere in fretta questo perché poi arriverà l'altro perché sarà sull'organizzazione e sulla pianificazione i due pilastri di un'impresa destinata a diventare leggenda quindi il libro è maggiormente parlo del viaggio dell'eroe quello mitologico no e quindi abbiamo cercato di fare come team un libro che vada a vada emozionare gli imprenditori guardi io penso che nel libro c'è un capitolo sulla motivazione successo dove io dico che cos'è la ricchezza a volte quando noi pensiamo ricchezza pensiamo ai soldi all'aspetto economico invece penso che oggi dobbiamo pensare al valore io penso che un imprenditore di successo sia un imprenditore che dà valore poi dal valore è vero arrivano anche i soldi io ho fatto un capitolo sulla gratitudine sul contribuire io sono grato alla vita per tutto quello che la vita mi ha dato mi dà e mi darà e so una cosa che questa mia gratitudine deve essere anche trasformata in contribuire nell'alimentare il mio conto corrente universale che è fatto di tanti versamenti di tempo di danaro in attività benefiche in aiutare imprenditori in difficoltà poi il mio conto corrente universale mi darà in termini di serenità di felicità e chiaro a volte anche in termini di ricchezza economica quindi c'è un cambiamento questa è un'economia molto diversa sotto tanti aspetti e noi dobbiamo adeguarci a questa tipologia di economia un'economia che guarda chiaramente agli esgi a tutto ciò che non financial un'economia circolare definiamola così in cui bisogna restituire perfetto e visto che si parla di mindset leadership motivazione gratitudine è un azzardo dire ci provo ovviamente in senso specifico abbiamo detto no un libro che si rivolge agli imprenditori alle imprese a chi vuole fare imprese anche per chi vuole iniziare no perché no iniziare col piede giusto diciamo chi ben comincia a metà dell'opera si dice però credo che sia un libro adatto a tutti noi come singoli perché allora anche qui sarà retorico dirlo ma ci sta siamo tutti imprenditori di noi stessi no e quindi è un modo anche perché come ha detto lei si sa mai domani cosa può succedere oggi magari siamo ci dedichiamo a una cosa domani mattina vogliamo dedicarci a un'altra insomma è un modo per leggo qua ti chiedo una cosa una salva mente lei scrive c'è una frase che vorrei non dimenticassi mai mentre scorri le pagine di questo libro tu sei un eroe e beh e la parola eroe poi a me piace giocare con le parole comprende tantissimi aspetti di noi stessi no in questo libro l'eroe non muore però perché di solito i supereroi muoiono tante volte nei film no in questo in questo libro è alieto fine questo libro sempre alieto fine guardate io ho cercato di trasferire l'emozione è un libro particolare scritto da un commercialista divergente come me però se voi sfogliate il libro nel libro troverete dei testi delle canzoni c'è una playlist tu sei un eroe che troverete su spotify e su itunes ho fatto fare delle vignette illustrative di ogni capitolo del libro proprio perché voglio trasferire le emozioni perché io penso che in questo momento l'imprenditore deve essere innamorato della sua azienda io tante volte agli imprenditori dico sei felice non c'entra nulla non faccio lo psicologo so bene che il mio ruolo è quello del commercialista però penso che la felicità sia un elemento importante è vero che la felicità può essere a momenti no però io penso che questa domanda l'imprenditore se la deve fare e l'azienda deve essere una felicità io ho fatto lo scout per tanti anni della mia vita e lo scoutismo mi ha insegnato che il compito di ognuno di noi è quello di lasciare il mondo un po migliore di come l'abbiamo trovato questo lo diceva Baden Powell e io con il team di impre focus i business coach di impre focus gli angeli custodi degli imprenditori vincenti noi abbiamo un piccolo scopo migliorare la qualità di vita degli imprenditori italiani e vogliamo la serenità delle famiglie degli imprenditori italiani lo so che può sembrare una cosa esagerata però nel nostro piccolo cerchiamo di lavorare su questo quindi doppia valenza questo libro ci dà due due conclusioni direi che è la cosa migliore da dire è questa da una parte sicuramente è star attenti ai bilanci ai numeri perché ovviamente di quello si parla però insomma la sensazione l'emozione che arriva poi da tutta un'altra serie di questioni che bisogna analizzare ogni giorno a partire dal benessere personale insomma non può prescindere quindi il doppio aspetto che è chiaro che quando parliamo di emozione parliamo anche dei numeri tanto che c'è un capitolo che parla dell'emozione dei numeri perché l'imprenditore deve avere il coraggio di guardare i numeri della sua azienda quindi non il professionista che lo segue ma deve essere l'imprenditore perché le strategie si guardano dei numeri c'è una frase che io ho copiato a sergio leone c'era una volta il west quando l'uomo delle parole incontra l'uomo dei numeri francesco cardone l'uomo delle parole è un uomo morto allora noi andiamo subito a leggere perché ricordiamo ci sarà anche il volume 2 e quindi poi ne parleremo insomma adesso non anticipiamo troppo e che dire grazie maria bonsanto c'è una cosa che volevo aggiungere all'interno del libro c'è un regalo che ne abbiamo fatto agli imprenditori allora non possiamo non parlare di regali tutti coloro che acquisteranno questo libro avranno la possibilità di avere una business coach gratuita con uno dei business coach in pre focus un bel regalo allora un regalo che noi facciamo agli imprenditori perché vogliamo dare valore quindi tutti coloro che acquisteranno il libro su qualunque tipo di canale possono cliccare ed avere una consulenza gratuita con il nostro business coach ottimo naturalmente dottor francesco cardone è a disposizione di tutti voi che ci state seguendo e anche noi lo siamo se avete bisogno di un collegamento siamo qui sia io che maria e tutta la redazione e per la lettura di questo libro anche per questo regalo che comunque è un'aggiunta rispetto a ciò che raccontavamo e che ha raccontato il dottor cardone nel libro grazie maria grazie a te manuela grazie naturalmente al nostro pubblico e grazie al dottor grazie a voi è stato un grande piacere anche per noi buona lettura a tutti siate ladri farabutti mostri senza cuore che si arricchiscono alle spalle dei dipendenti troppo spesso è questo che l'opinione pubblica pensa di noi imprenditori e così tu che coraggiosamente ha impiegato una vita per costruire qualcosa di valore finisci per passare per il cattivo della storia da inizio 2020 poi siamo nel mezzo di una burrasca e solo un imprenditore può capire cosa si provi si ha la responsabilità della nostra famiglia e di tante altre non si può abbandonare il timone della nave lasciamelo dire viviamo in un periodo dove esistono due categorie di eroi gli operatori sanitari che svolgono un lavoro di vitale importanza riconosciuto da tutti e poi noi noi imprenditori senza aiuti dimenticati da tutti eppure mal considerati chi sta parlando? sono francesco cardone di la verità non mi avevi mai visto in questa veste forse eri abituato a vedermi così in carne ed ossa come alla recente premiazione per essere stato eletto professionista dell'anno in consulenza strategica ma ora sono qui come supereroe per renderti consapevole del fatto che lo sei anche tu si tu sei un eroe anche se nessuno te lo dice e ti senti solo contro tutti ma quale deve essere la priorità di un imprenditore eroe? quella di evitare che un'eventuale difficoltà della sua azienda possa compromettere la serenità e la stabilità economica della sua famiglia e di quella dei suoi collaboratori e nel mio nuovo libro tu sei un eroe ti spiego nel dettaglio come proteggere efficacemente la tua azienda e di conseguenza assicurare un futuro sereno a chi dipende da te lasciati prendere per mano in questo meraviglioso viaggio ho tanto tantissimo da dirti ci vediamo nel libro clicca qui per acquistare il tuo volume